Bari ritrovato dai carabinieri pensionato scomparso. Aveva fatto perdere le proprie tracce martedì pomeriggio allontanandosi con l'auto. La moglie preoccupata aveva segnalato telefonicamente alle forze di polizia l'allontanamento del marito settantenne, ma le ricerche proseguite per tutta la notte avevano dato esito negativo. I carabinieri hanno organizzato un'imponente battuta di ricerca con una cinquantina di uomini facendo alzare un elicottero ed impiegando le unità cinofile dei carabinieri di Modugno. Il fiuto di Zigo, uno splendido esemplare di pastore tedesco, non ha fallito. Annusando degli indumenti dell'anziano e partendo dall'auto abbandonata in campagna, ha attirato il suo conduttore in aperta campagna. Grazie all'intervento dei carabinieri, l'anziano, spaventato e disidratato, è stato ritrovato tra le strepaglie dietro ad un capannone in disuso. Capurso, droga in casa, arrestato 22enne. Deteneva in casa cocaina e marijuana e la scoperta fatta dai carabinieri a Capurso, dove i militari hanno arrestato un 22enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri avevano notato un sospetto andirivieni di persone nei pressi dell'abitazione del giovane. Nel corso della perquisizione, il cane antidroga del nucleo cinofili di Modugno ha rinvenuto una dose da 3 grammi di marijuana, 11 grammi di cocaina. Sono state rinvenute anche due agendine su cui erano notati nomi di persone, cifre espresse in euro, ovvero i registi contabili della sua illecita attività. Metalli pesanti e micotossine nel pane, nella pasta e nelle merende. La forestale denuncia 14 imprenditori pugliesi e del centro nord e sequestra oltre 10.000 quintali di semola. I forestali del Comando regionale per la Puglia e del coordinamento territoriale per l'ambiente di Altamura, Parco nazionale dell'Altamurgia, su delega del Pubblico Ministero Antonio Savasta della Procura della Repubblica di Trani, hanno effettuato accertamenti sul fenomeno della presenza di contaminati vietati per legge all'interno di molti prodotti alimentari. Tra i vari contaminanti sotto osservazione, i metalli pesanti e le micotossine, tutte sostanze tossiche per l'uomo. Oltre 80 ditte, tra cui numerosi panifici, sono state sottoposte a controllo mediante campionamenti e sono stati riscontrati alimenti con percentuali di contaminanti, ben oltre la soglia di tutela. Sono stati analizzati pane, pasta e merende per i bambini più vulnerabili in fascia 0-3 anni, in cui i limiti delle citate sostanze stabiliti dalla legge sono sensibilmente inferiore rispetto agli alimenti per gli adulti. Numerose le violazioni accertate dai forestali in una ditta privata dedita alla preparazione dei pasti nelle scuole con bimbi da 2 a 3 anni, è stato accertato l'uso di pasta, pane e merende con piombo superiore ai limiti consentiti. Infine, su più di un terzo del pane di semola di grano duro campionato, è stato rilevato il superamento dei limiti delle micotossine e di metalli pesanti, previsti per i bimbi fino a 3 anni e quindi la non idoneità alla consumazione per tale fascia di età. In sostanza, il pane destinato indistintamente a tutti i consumatori non era invece adatto per i bambini fino a 3 anni. Sono stati sottoposti a sequestro oltre 10.000 quintali di semola ricavata nella maggior parte da grano non italiano, utilizzata per la produzione dei prodotti alimentari, nei quali sono stati riscontrati maggiori livelli di contaminanti dannosi alla salute in quanto superanti i parametri di legge, con riferimento all'alimentazione infantile. Gravina, l'Enel stacca la corrente per i lavori, il Comune convoca una riunione delle Forze dell'Ordine. L'Enel lo ha reso noto ufficialmente e pubblicamente nella giornata di mercoledì, nella notte tra venerdì e sabato prossimi, per la precisione, da mezz'ora dopo la mezzanotte fino alle 6 del 16 aprile, la città di Gravina resterà senza corrente. Una scelta imposta dalla necessità di procedere alla sostituzione della cabina primaria, che sebbene programmata nelle ore notturne, non mancherà di avere ripercussioni. A preoccupare anche la situazione dell'Ordine pubblico, l'argomento è stato al centro di una riunione convocata in comune dal sindaco Alessio Valente alla presenza dei referenti Enel e dei vertici delle Forze dell'Ordine. Il vicequestore Pietro Battipiete, dirigente del commissariato di polizia, il comandante della stazione dei carabinieri, il comandante della polizia municipale, il comandante della stazione del corpo forestale dello Stato. Nel corso dell'incontro, il sindaco non ha mancato di stigmatizzare le discutibili modalità operative di un intervento certo indispensabile, ma notevolmente penalizzante per la città intera, specie per i commercianti. Da qui la richiesta di valutare possibili ipotesi alternative o comunque di circoscrivere al massimo gli inconvenienti. L'Enel, dal suo canto, irremovibile nonostante le proteste, ha risposto dicendosi disponibile a ripristinare l'erogazione anche prima dell'orario preventivato, in caso di conclusione anticipata dei lavori. Inoltre si è impegnata a prestare assistenza attraverso la fornitura di gruppi di continuità alle persone affette da malattie necessitanti l'uso di apparecchiature mediche elettriche già contattate sulla base degli elenchi forniti dalla ASL. Carabinieri, Polizia, Forestale e Municipale hanno garantito l'attivazione di turni di vigilanza speciali per presidiare la città per tutta la notte. A dare una mano anche gli istituti di vigilanza privata. Resteranno operativi per l'intera nottata tutti i presidi di pubblica sicurezza, come ad esempio il commissariato, dotato dalla stessa Enel di un gruppo elettrogeno ed in via eccezionale anche il comando di Polizia Municipale munito di altro gruppo, presso il quale, su indicazione del primo cittadino, sarà insediata la sede operativa.